Piano Too nervous Ok, start Vado a copiare Ci sei, ci sei, bravo Bravo Ottima Vado a copiare Questa mamma ha fattuto dopo dargli il colpetto tu sei più alto Quattro Questa mamma ha fattuto 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 Grazie a tutti Vai così perfetto Ci sei Ci sei Perfetto La otto quella là La otto eh Ricordati Fala da sotto Perfetto Tutte quattro Grande Bonus 40 secondi Stirato eh Calmo Grande Piano Vai col dietro Sblocca col dietro Tutte quattro Alle nove ce n'hai davanti a te Sei caduto giù 25 secondi Vai un minuto Vai tranquillo Attento lo spigolo Vai vieni giù subito sulla 10 Stop Stop Ecco Il minuto è partita da adesso Sì Grande 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 Sennò non perdevo tempo là È un commento a caldo sulla seconda prova con il Bulli Eh Inizia ad andare meglio dai Dai Bene 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 Inizia a migliorare Non male C'è anche il Mariani Un minuto 4 ridotti Molto bravo Sì È un minuto 30 secondi Quindi è Minus 30 E 14 C'è un minuto C'è un minuto